Sabato 18 e domenica 19 aprile si torna a correre per sostenere la ricerca. Arriva alla quarta edizione Walk of Life di Teleton, la tradizionale gara competitiva di 10 km, a cui si affiancherà la passeggiata di 3 km aperta a tutti i cittadini. L'iniziativa coniuga solidarietà e divertimento. L'obiettivo è sostenere la ricerca scientifica ed offrire sostegno alle famiglie di pazienti affetti da malattie genetiche rare. È straordinario avere la città ancora una volta impegnata in una bella domenica per una manifestazione che fa dello sport e unisce lo sport alla ricerca. In Napoletania hanno un cuore grande e saremo in tanti domenica prossima l'altra per sostenere questa iniziativa. Nata nel 90 da un gruppo di pazienti affetti da distrofia muscolare, la fondazione Teleton ha investito in ricerca oltre 420 milioni di euro, finanziato più di 2500 progetti e messo a punto terapie per alcune malattie prima considerate incurabili. In Campania sono lodevoli i risultati raggiunti dai volontari dell'Istituto TGEM di Pozzuoli. L'obiettivo nuovo del TGEM è quello di portare i risultati della ricerca che oggi è limitata dai nostri laboratori sul letto dei pazienti. E quindi ci vuole l'aiuto di tutti per far sì che anche questo nuovo sogno possa diventare realtà. La corsa di Walk of Life, che sostiene quest'anno la battaglia di Niccolò e Gabriele, due bambini napoletani affetti da SMA 1, prenderà il via sabato 18 aprile con l'allestimento del villaggio Teleton in piazza Plebiscito, dove sarà possibile ricevere informazioni ed iscriversi alla gara. Domenica 19 invece tutti in piazza per partecipare alla maratona di solidarietà. Chiedo a tutte le famiglie di portare i propri figli a questa manifestazione perché non lontano da noi c'è chi per fittizie e diversità ne fa motivi di odio, invece far capire ai bambini già da oggi che non esistono diversità, chi affetto delle malattie non è un diverso, ma è semplicemente una persona in questo momento ha bisogno di amicizia e di un sorriso in più e portare i bambini a queste manifestazioni penso che sia fondamentale per il nostro futuro.